Grazie a tutti. Quindi non è qui con noi a sostituirlo ma lo sostituirà degnamente. Abbiamo il professor Aylord, il nostro coordinatore artistico dell'associazione e quindi sarà un bel dialogo e lascio quindi a lui il compito di presentare il professore. Grazie. Grazie. Grazie al professor Pascucci che ci ha raggiunto dalle Marche, da Pesaro. Insieme al professor Pivato avrebbero dovuto oltre che viaggiare assieme in qualche modo presentare i rispettivi libri. Purtroppo l'assenza imprevista è dolorosa perché è una questione di calcoli e fanno male. Del professor Pivato ha impedito il viaggio e la sua presenza. Loro entrambi condividono questa professione, sono docenti universitari all'università di Urbino se non sbaglio, intitolata Carlo Bo. Si occupano nelle loro discipline dell'area giuridica, quindi le leggi e tutto quanto sta attorno con sfaccettature più storiche, più di specializzazione. Ma entrambi condividono una passione personale per la bicicletta, nei due elementi. La bicicletta ammirata nel ciclismo, come in questo caso, su strada, con i grandi campioni, le corse, tutto quello che sta attorno. Ma anche praticato con il cicloturismo che viene in allenamento il corpo, che è l'altra tematica del nostro festival. Allora, questo libro ha tanti aspetti, che voglio sottolineare all'inizio, che lo rendono pienamente una parte integrante, quasi riassuntiva per certi aspetti, di altri incontri, di altre sfaccettature del festival, di quello che l'ha preceduto, che lo chiamiamo aspettando il festival. Adesso ci stiamo inventando anche un festival post, perché le idee non mancano. Perché? Beh, innanzitutto una cosa che è spiegata nel libro da Paolo Pascucci, il titolo, Piccola fenomenologia del ciclismo su strada, utilizza questo piccola, che è una sorta anche di non pretesa di esaurire. Ho detto che il professore insegna tutt'altro e quindi l'ha fatto per passione, ma chiaramente con una documentazione e soprattutto il valore, lo dico all'inizio e vorrei che emergesse, è nella riflessione su alcuni aspetti del ciclismo in quanto corsa, in quanto esperienza, in quanto sport, che è molto particolare e lo distingue da tante altre pratiche sportive. Piccola appunto perché il libro non è molto lungo e per questa sorta di prudenza. Ecco, noi nel nostro nuovo corso, diciamo, ormai i cinque anni del festival, che quest'anno compie 15 anni, abbiamo anche inventato un piccolo concorso di scrittura creativa, con la stessa idea che non esageriamo, non facciamo il grande concorso. Piccolo perché i testi sono brevi e quest'anno il tema sarà appunto la bicicletta e il corpo. Un altro aspetto molto, molto, direttamente collegato ad altri incontri del nostro festival è sempre all'inizio, nell'introduzione il professor Pascucci dice che avrebbe voluto inviare la prima copia a Gianni Mura. Noi abbiamo avuto un incontro molto interessante nel quale Beppe Conti ci ha parlato di Gianni Mura, perché ha condiviso tante esperienze, non solo seguendo soprattutto il Tour de France, che Gianni Mura amava particolarmente, che è la corsa ciclistica più importante al mondo, ma anche mangiate, bevute, chiacchierate, ricordi, piccole sfide, un'amicizia che ci ha raccontato bene. Beppe Conti è molto simpatico e generoso, quindi è stata una bella esperienza. Accanto a quello, cioè accanto, in quel incontro si è parlato di scrittura, e uno dei temi, magari poi lo riprendiamo, è che il giornalismo ha una lingua, anche delle parole nuove. Nuove. Avevamo intenzione di, anzi li abbiamo invitati, Magrini e Giordano si chiamano, Gregorio. Io non li conosco perché non seguo Eurosport, ma volevamo proprio che venissero per parlare, hanno scritto un libro, Fagianate e altri, esatto, però poi si sono accorti che coincide il nostro festival con i campionati del mondo di ciclismo e quindi lo stanno seguendo per Eurosport. Però è un discorso che non vogliamo abbandonare perché il nostro festival di letteratura e la letteratura, ma anche il giornalismo, che racconta già il giorno dopo la cronaca, ma anche a distanza di tempo la storia del ciclismo, si vede anche dalla ricca bibliografia rappresentata dalla libreria del festival, è davvero di grande qualità. Il festival è iniziato con un recital tratto dal libro di Nobuzzati al Giro d'Italia e un'altra cosa che potrà essere argomento di discorso è l'aspetto epico, quindi di Nobuzzati, ma non è il solo, che richiama proprio le figure esplicitamente degli eroi greci in questa sorta di scontro, per fortuna incruento, che è la gara, la rivalità, che magari si prolunga per anni fino a diventare quelle coppie di rivali, a cominciare da coppie Bartali, Merckx, e dopo chiederemo al professor Pascucci perché ha scelto proprio Merckx, che non è propriamente un ciclista italiano, e c'è un motivo personale che secondo me è bello conoscere. Però la prima cosa che chiedo è questa, per definire anche il suo modo di intendere e poi descrivere il ciclismo, quello che giustamente lei definisce uno simoro. L'ossimoro a noi piacciono anche perché sono dei giochi di parole, sono due contrari che stanno assieme, quindi la definizione del ciclismo come uno sport individuale di squadra, giusto? Grazie. Intanto buongiorno a tutti e a tutti e grazie per l'invito che mi ha consentito di venire in un posto splendido, quale questo è. Non siamo tanti, ma il pochi ma buoni, secondo me, vale in queste occasioni di piccole presentazioni di libri. Ormai questo aggettivo diventa topico. L'ossimoro è naturalmente l'unione di due contrari, sostanzialmente, o meglio di due termini che tra loro sono contrari. E è una riflessione che paradossalmente deriva proprio dalla mia professione. Io insegno diritto del lavoro all'università, quindi uno dice perché ti sei avventurato a scrivere un libro di ciclismo, o meglio sul ciclismo. La spiegazione è sostanzialmente questa. Nella mia materia, ma la faccio brevissima, state tranquilli, non è una lezione, mi occupo ovviamente di diritto del lavoro e quindi del rapporto tra il lavoratore e il datore di lavoro. Un rapporto che, come tutti sapete, anche i non addetti ai lavori, è ontologicamente squilibrato perché uno ha i mezzi di produzione e l'altro no. E quindi naturalmente c'è una differenza di potere tra le parti, che ovviamente fa sì che se la relazione fosse soltanto tra questi due soggetti, la preponderanza sarebbe sempre di quello più forte. Questa relazione asimmetrica è di solito riequilibrata dall'intervento di che cosa? Di una dimensione collettiva. L'aggregazione collettiva, il sindacato per intenderci, no? Che grazie alla forza che esercita di pressione sul datore di lavoro, porta i contratti, attraverso i contratti collettivi, a riequilibrarsi. E quindi individuale e collettivo. Questa duplice accezione che io in qualche modo sono andato a ritrovare con una suggestione, anche nel ciclismo, perché il ciclismo è l'unico sport che è prettamente individuale. Su questo nessuno può contestarmelo. Chi vince è sempre uno, salvo nelle competizioni a squadre, ma sono, diciamo, delle cose a parte. Il ciclismo su strada è uno sport prettamente individuale. La maglia rosa è una, la maglia gialla è una, chi vince la Paris-Giroubaix è uno, eccetera, eccetera. Domani chi vincerà il mondiale a Lovagno, in Belgio, sarà uno. Però è uno sport individuale che non può assolutamente prescindere dalla dimensione di squadra. Cioè dall'apporto di un collettivo, che fa sì che quell'uno possa naturalmente essere più forte. E allora mi sono interrogato, qui forse c'è un po' una deformazione professionale, perché noi che facciamo per mestiere ricercatori cerchiamo sempre di andare a sfrucugliare un po' la realtà. Quale altro sport è così? E per quanto io mi sia sforzato di cercare nel catalogo, diciamo, olimpico, non ne ho trovato un altro uguale. Perché ci sono tanti sport di squadra, dove però vince la squadra. Il calcio, il basket, la pallavolo, tutto quello che volete voi. Oppure tanti sport individuali, dove però, naturalmente, non c'è l'apporto del collettivo in questo senso. Il ciclismo, da questo punto di vista, è uno sport unico. Prettamente individuale, ma prettamente fondato sull'apporto del collettivo. E qui c'è un altro aspetto molto interessante, che va al di là anche della suggestione della mia materia. E cioè che in realtà fotografa quello che accade nella realtà socio-economica della nostra società. Pensate un po' a che cos'è un'impresa, a un'organizzazione imprenditoriale, dove tutti quanti concorrono, spesso anche con conflitto di interessi, per realizzare il progetto produttivo di chi? Dell'imprenditore. In fondo, se volete, è una metafora di quello che accade nella nostra vita, nella nostra organizzazione sociale, ci piaccia o meno. E quindi c'è un'unicità da questo punto di vista, dal punto di vista sociologico, io sono un giurista, non un sociologo, però in qualche maniera la dimensione sociologica qui diventa interessante, che lo distingue da tutte le altre competizioni sportive. Questo, dal punto di vista così della raffigurazione, se volete, immaginifica, ma neanche tanto, di quello che è uno sport, secondo me, non solo antichissimo, glorioso, che ha appassionato intere generazioni, che sta continuando ad appassionare le generazioni di oggi, ma che però conserva questo tratto di specificità, di originalità, che lo contraddistingue da tutti gli altri. Quanto all'epica, visto che è stato suggerito un po' questa ulteriore riflessione, qui bisogna interrogarsi su come il ciclismo è stato raccontato. Oggi, anzi domani, domani pomeriggio, se qualcuno di voi volesse, potrebbe, forse già da domani mattina, potrebbe collegarci sui canali televisivi, privati o pubblici che siano, e vedere sciorinata la disputa del campionato mondiale di ciclismo su strada che si tiene nelle fiandre, dalla partenza all'arrivo, per sei, sette, otto ore, viene raccontata interamente dalla televisione, con riprese dall'elicottero, dalla moto, dalla macchina, eccetera, eccetera. Tutto questo un tempo non c'era. La televisione arriva molto tardi a raccontare le imprese ciclistiche, e i meno giovani di voi ricorderanno che le prime immagini televisive erano di fatto una telecamera fissa che inquadrava la linea d'arrivo, sulla quale piombavano i corridori dopo tanto tempo, e però poi il resto della gara non si vedeva. Al massimo veniva riproposto in un telegiornale le immagini registrate di quello che era venuto in gara. E quindi il racconto delle gesta della gara era un racconto orale o scritto, fatto da giornalisti e spesso anche da scrittori che seguivano le gare. E quindi era un racconto essenzialmente fondato sulla parola, fosse essa orale o scritta. Una parola spesso colta, perché quando lei citava Buzzati, parliamo di un grande scrittore della nostra realtà letteraria, e come lui ce ne sono stati altri che hanno seguito magari estemporaneamente le grandi competizioni, perché erano poi appunto una sorta di epopea, e la narravano naturalmente con le immagini della loro cultura, che era una cultura classica. Queste persone si erano formate essenzialmente con una cultura classica, dove le gesta più, come dire, valorose, attingevano al mito, la narrazione omerica, l'Iliade, l'Odissea, cioè i grandi eroi, le grandi lotte tra l'uomo e il dio, o il semidio. E allora era facile, lo fa Roland Barthes, grandissimo storico francese, e paragonare il Tour de France, appunto, ai poemi omerici. La lotta tra Ettore e Achille. Ettore, l'eroe troiano, che però è umano, è totalmente umano. Achille, l'eroe greco, a Cheo, anzi, che però è figlio di una dea, di Teti. E quindi, naturalmente, ha un vantaggio su Ettore. Soltanto colpendolo nel tallone Achille potrà morire. Infatti morirà alla fine perché una freccia scoccata dal Troiano Pandoro lo andrà a cogliere proprio nel tallone, ma altrimenti sarebbe invincibile. Quindi una lotta impari. E infatti Ettore perirà nel duello finale con Achille. E allora è facile pensare a quello che è successo, tra Felice Gimondi, uno dei più grandi campioni ciclisti della nostra storia italiana, ed Eddie Merckx, grandissimo campione belga, che era indubbiamente più forte di Gimondi. E c'è un bellissimo libro, uno dei tanti, perché in realtà la biblioteca ciclistica è smisurata. Io a casa ho, devo dire, una discreta biblioteca ciclistica e qui, infatti, ho già contribuito, ho già in qualche modo trovato altri volumi. Ce n'è uno bellissimo in cui, e c'è una canzone anche di Ruggeri, di Enrico Ruggeri, che narra di come Gimondi dice, la metafora è questa, se ti volti io ci sarò. Ed è rivolta a Merckx. Tu stai davanti, ma io ti sto sempre dietro. Non ti mollerò mai. Il campionato mondiale di Mendrisio, che poi non è molto lontano da qua, perché la Svizzera è vicinissima, all'inizio degli anni 70, vede una lotta frenetica tra Merckx e Gimondi. E Gimondi, per stare dietro a Merckx, a un certo punto stringe i denti, tirando sul manubrio, fino a slogarsi una mascella. Questi sono episodi, se volete, che però in qualche modo ricordano una storia epica. Ovviamente quel campionato lo vincerà Merckx, perché in volata è molto più forte. E però è la lotta tra l'uomo e il semidio. Allora è facile attingere a quella cultura e quindi riportare su uno sport di questo tipo i canoni interpretativi della cultura classica. Che, badate bene, non cedono neppure quando arrivano i mezzi di informazione e di dimostrazione tecnologici come quelli di oggi. Questo è molto interessante. Cioè siamo ancora sostanzialmente pieni di quel tipo di modo di comunicare. Quindi le gesta dei campioni, anche di oggi, sono ancora oggi molto spesso denominate con quel tipo di vocabolario. E perché qui c'è un altro fatto che rende unico il ciclismo. Qual è lo sport più faticoso in assoluto, secondo voi? Voi mi direte il triathlon, forse. Cioè di quei pazzi che si fanno chilometri a nuoto, chilometri in bicicletta, chilometri... Però è un fenomeno tutto sommato marginale. Lo sport più celebrato o più faticoso? Forse il calcio? Certo che no. Il più faticoso è il ciclismo. Provate voi a stare sette, otto ore in bicicletta sotto il sole, a quaranta gradi, sui Pirenei, Pirenei, oppure sotto il freddo, sotto la neve, c'è una mitica corsa, una delle cinque classiche monumento, la Liegi-Baston-Liegi, la Doaienne si chiama, la corsa più antica, la Decada, nella quale nel 1980 un grandissimo campione francese, Bernard Hinault, vince distaccando tutti gli altri di vari minuti e corre dall'inizio alla fine di questa corsa lunghissima, che è quasi 300 chilometri, praticamente sotto l'acqua, sotto il vento e sotto la neve. Non c'è uno sforzo umano comparabile. Ed è la fatica, quindi, in qualche modo, la cifra, la sofferenza del ciclista che esalta quella dimensione epica. E se mi permettete, c'è un altro aspetto collegato a questa cifra della sofferenza. Il tifo. È rarissimo trovare nel ciclismo episodi di tifo violento. Intanto il tifo, anche se è di parte, parteggio per Coppi, parteggio per Bartali, in Italia ci fu, e qui sarebbe stato bello se ci fosse stato Stefano Pivato che ha scritto su questo un libro, sia lo dato Bartali, che ricorda anche questa cronaca, più che storia, in cui l'Italia si era divisa in due, la sinistra con Coppi e, diciamo, i democristiani con Bartali. Bartali, l'eroe cattolico, lo sportivo cattolico, Coppi, che in realtà era cattolico anche lui. In verità, infatti, il Pivato sfata un po' questo mito. Però, è chiaro che c'è l'appartenenza, c'è il tifo, tifo per Mosero, per Saronni, tifo per Gimondi, tifo per Mer, e però poi, quando passano, inciti tutti, applaudi tutti, non sei contrario a nessuno. Sono rarissimi gli episodi, proprio si contano sulle dita di una mano, in cui qualche tifoso, che in realtà era qualche pazzo, ha in qualche modo invaso la strada per ferrare un pugno a qualcuno. È successo con Merckx, è successo con Frum, pochi casi, una volta con Bartali al Tour de France. Per il resto, il tifoso incita tutti. Perché? Perché rispetta la sofferenza, l'enorme fatica di questi sportivi. Tant'è che io parlo non tanto di un pubblico del ciclismo, in questo libro, ma parlo di un popolo del ciclismo. Quando noi diciamo uno sport popolare, non significa solo che è diffuso, che lo guardano tutti, ma vuol dire che ha un popolo dietro di sé. È sport di popolo, forse come nessun altro. Certo. Allora, visto che l'ho detto, la curiosità forse va soddisfatta. non solo la copertina è una foto scelta volutamente di Merckx, ma anche la quarta è una citazione di Merckx su cui magari torniamo dopo. Quando la strada sale non ti puoi nascondere. Ma il professore ha accennato a un aspetto fondamentale del ciclismo, cioè l'aspetto del pubblico, quindi come si vive l'evento ciclistico. e qui la tecnologia ha fatto la differenza. Una partita di pallone la si poteva vedere bene e forse meglio integralmente allo stadio. La corsa ciclistica finché non c'era la radio prima parzialmente e la televisione assolutamente no. Adesso ci sono i mezzi, i droni, gli elicotteri con sopra Bugno magari. Adesso Bugno nel team della squadra italiana penserà ad altro rispetto agli elicotteri. Ma questo aspetto anche personale di avvicinarsi al ciclismo come passione, come tifo sembrerebbe far dire che il professor Pascucci è stato un grande fan, un grande tifoso fan, lo sciamo agli altri, grande tifoso di Merckx. È vero? Assolutamente no se lo decliniamo al passato è stato. Io Merckx l'ho odiato sportivamente come credo tutti i ragazzi della mia generazione. Io sono nato nel 1954 quindi ho avuto la fortuna di vedere durante gli anni della mia gioventù tutta l'epopea di Merckx che dura sostanzialmente un decennio dal 67 al 77 la foto della copertina e la Paris Roubaix del 77 quando Merckx ormai al calare della carriera giunge solo undicesimo dopo averne vinte tre però è la corsa più dura del mondo come sapete quella che si corre sul pavè sulle pietre una cosa orrenda infernale lo chiamano l'inferno del nord io da ragazzo l'ho odiato Merckx perché ovviamente c'è lo sciovinismo nel tifoso tifi per l'italiano e quindi tifavo per Gimondi tifavo per Motta per Adorni per i nostri campioni per Bitossi che Merckx regolarmente batteva su qualunque terreno in volata in salita a cronometro nelle corse a tappa nelle corse in linea eccetera nel 1968 avendo io una madre che era nata a Imola andai a vedere il campionato del mondo dal vivo una delle pochissime gare che ho visto dal vivo a Imola sul circuito dei Tremonti che poi è il circuito che serve anche per l'automobilismo e per le moto e lì lo vidi per la prima volta che inseguiva in vano Vittoria Adorni che vinse quel campionato del mondo per distacco con dieci minuti sul gruppo e dico nel libro che per la prima volta vidi quel mostro che odiavo e quindi quello sciovinismo quella partigianeria tipicamente campanilistica mi portava sostanzialmente a detestarlo un po' anche perché c'è il complesso in qualche modo di inferiorità per cui tifi sempre magari per quello più debole sta di fatto che poi crescendo perché prima o poi si cresce io sono cresciuto tardi come forse tanti cominci a renderti conto che lo sciovinismo deve lasciare un pochettino il posto anche alla ragione e mi sono reso conto crescendo di quanto sia stato grande questo campione cioè nel momento in cui ho deposto un pochettino quel tifo un po' fatto solo di passione ho cominciato ad usare una sorta di razionalizzazione della realtà mi sono accorto di quanto questo fosse stato straordinario nel senso che questo è di merckx è nato nel 45 quindi ormai è un signore piuttosto attempato è anche piuttosto corpulento ma deve aver per anni veramente fatto diete incredibili per poter raggiungere i risultati che ha raggiunto questo signore di fatto ha corso tutte le corse che gli sono capitate come se fossero il campionato del mondo in linea si trattasse della kermesse le kermesse sono delle corse si può dire paesane che soprattutto nei paesi del nord in Olanda in Belgio nelle Fiandre anche nel nord della Francia si svolgono e a volte c'erano in premio delle cose tipo non dico un prosciutto ma giù di lì sia che si trattasse della corsa più famosa della più celebrata vinceva sempre non a caso l'hanno soprannominato il cannibale cannibale perché era continuamente affamato di vittorie e qualcuno dice perché divorava gli avversari ho sempre detestato questo appellativo di Merckx lui da grande signore qual è non se n'è dato cura perché quello che conta poi sono le imprese reali non tanto la fantasia e devo dire che in realtà lui non divorava gli avversari li onorava profondamente perché lui correva sempre in senso veramente sportivo per vincere la gara sapendo di essere il più forte lui correva per onorare la sua forza guardate che sembra una sciocchezza ma non lo è è un po' se volete riportandolo su una dimensione altra extrasportiva il discorso sul merito chi merita deve prevalere in questo strano paese nel quale noi viviamo bellissimo e per certi versi maledetto quante volte il merito prevale davvero chi è più bravo riesce a prevalere forse bisognerebbe un pochettino deporre certe sorti di ideologismi e ritornare a dare il giusto peso alle cose il merito chi è più bravo deve vincere nello sport questo è fondamentale e non sempre accade Merckx onora profondamente la propria predominanza e corre tutte le gare come se fossero l'ultima che corre e questo fa sì che sia un campione unico per certi versi assolutamente unico tant'è vero che la sua carriera dura molto meno di quella di altri campioni dell'epoca Felice Gimondi che era un po' più grande di lui riesce a vincere anche dopo che Merckx ha cessato la carriera quindi quando era anche più vecchio perché non perché Gimondi si risparmiasse molto perché è stato sempre un grandissimo corridore generoso ma Merckx si è speso allo stremo e il suo fisico straordinario a un certo punto come dire si è arreso ma perché ha dato veramente tutto se uno guarda come dire i risultati di questo campionissimo si rende conto che sono strabilianti tra dilettanti e tra dilettantismo e professionismo conta più di 530 vittorie solo da professionista più di 400 una cosa incredibile vinceva praticamente una corsa su tre nessuno è mai riuscito a fare questo e tant'è che Beppe Conti mi sarebbe piaciuto che fosse stato qui oppure che io fossi stato qui quando c'era lui eh magnifico beh ma non oso paragonarmi all'esperienza di Beppe Conti però il vero paragone poi nello sport non è stato tanto tra Coppi e Bartali che pure è stato il dualismo italico Bartali badate un cagnaccio come si dice in gergo uno che non mollava mai uno che dal punto di vista del nervo della voglia della passione era molto più forte di Coppi Coppi aveva una classe infinita ma Bartali non mollava mai Coppi ogni tanto mollava si ritirava Bartali mai però il vero dualismo nella storia del ciclismo tra chi è? tra due che non sono comparabili perché corrono in epoche diverse con stagioni diverse realtà diverse alimentazione diversa mezzi ciclistici diversi Coppi e Merckx tant'è che io dedico il capitolo finale a questo dilemma che è il tormentone dei tormentoni chi è stato il più grande? si sono chiesti a un certo punto Coppi o Merckx? e allora come il re Salomone ricordate che tagliò i bambini in due che cosa hanno deciso di fare alcuni grandi giornalisti cito per tutti Gian Paolo Ormezzano hanno deciso di dire il più grande è stato Coppi il più forte è stato Merckx in modo molto salomonico si mettono tutti e due su un piano di preminenza ecco io mi sono permesso non tanto di contestare ma di cercare di verificare se questa conclusione fosse davvero sensata oppure no e concordo che Coppi è stato sicuramente grandissimo sempre che però assegniamo al termine grande al concetto di grandezza un certo significato ma grande che significa? se lo consideriamo dal punto di vista delle imprese epiche non c'è dubbio che la grandezza di Coppi è incomparabile ma la grandezza può voler dire anche la dedizione spasmodica quotidiana al proprio impegno professionale e vedete che questo è un discorso che va al di là anche della dimensione sportiva e secondo me c'è una grandezza che noi troppo spesso sottostimiamo che è quella della normalità quotidiana in Merckx si coglie assolutamente io considero grandissima anche la normalità di chi tutti i giorni fa il cosiddetto suo dovere e magari senza che ci sia attorno un'aura di gloria o di eroismo quindi credo che ci sia anche una grandezza di Merckx fermo restando che dal punto di vista della pura forza della pura potenza dal punto di vista puramente atletico Merckx è assolutamente incomparabile Gianni Mura che è stato citato poco fa è che è venuto a morire nelle mie zone Gianni Mura è morto nella primavera del 2020 a Senigaglia essendo lui fra l'altro milanese ancorché di origine sarde il padre era sardo e il cognome lo dimostra è venuto a morire a Senigaglia tant'è che io mi sono chiesto perché è morto a Senigaglia Gianni Mura era ricoverato all'ospedale di Senigaglia poi l'ho scoperto dopo perché Emanuela Audisio che credo la più grande giornalista sportiva che c'è in Italia e che io ho avuto la fortuna di conoscere perché le ho mandato il libro e lei mi ha detto ma sei di Pesaro vediamoci e lei ha una casa a Senigaglia lo aveva ospitato nella sua villa a Senigaglia vicino al mare proprio per riprendersi da un problema di salute che aveva e poi purtroppo lì è successo quello che è successo ebbene Gianni Mura sostanzialmente racconta delle gesta di questi campioni lo racconta e dice sostanzialmente come lui secondo lui per quello che ha visto sicuramente Marx è stato il più grande per quelli che ha visto lui ovviamente però anche lui in fondo lo riconosce sarebbe stato bello poter dialogare anche con lui di queste cose lui che ha seguito non so quanti Tour de France descrivendoli anche qui come fenomeno sociale non solo sportivo lui era attentissimo al dato tecnico se uno va a recuperare Repubblica ha pubblicato fra l'altro dei volumi che sono anche ho visto nella vostra vetrina di là in cui sono raccolti i migliori saggi i migliori articoli di Mura sul ciclismo ma poi c'è un libro meraviglioso che è La Flamme Rouge La Fiamma Rossa che è poi il simbolo il triangolo rosso dell'ultimo chilometro dove racconta appunto le grandi imprese del Tour de France Gianni Mura era attentissimo al dettaglio tecnico cioè secondo me è veramente lo scrittore a tutto tondo perché è attento al dato tecnico ma nello stesso tempo attento anche a tutto il dato di contesto la passione per la gastronomia in realtà la passione per il costume per tutto quello che è attorno a questo fenomeno sociale che è il ciclismo da questo punto di vista mi pare di poter dire che quindi Merck si incarna un modello di campione sempre più difficile da trovare sempre più come dire unico in questo senso e io l'ho voluto in qualche modo omaggiare forse per come dire per scontare un po' quello che io gli dovevo nella mia nella mia dimensione privata questo fatto che per molto tempo non l'ho stimato o meglio più che non stimato detestato proprio per la sua enorme forza che faceva sì che i nostri rispetto a lui perdessero e quindi sentivo di dovergli un tributo ho provato a mandargli anche il libro in Belgio non so se l'indirizzo che mi hanno dato sia corretto o no chi lo sa magari si perde come una bottiglia nel mare però un messaggio nella bottiglia però chi lo sa è qualcosa che mi sentivo dentro in qualche modo bene allora c'è un'altra citazione di Mura che è stata fatta nell'incontro in cui appunto Beppe Conti era presente e parlava di questa amicizia il ciclismo è anche l'unico sport dove chi fugge non è un vigliaco e la fuga è un elemento su cui il libro ragiona che è molto importante perché mette in luce quello che dicevamo prima vale a dire la fuga di solito è singolare però c'è anche un lavoro di squadra c'è anche la squadra che cerca di evitare che chi è in fuga venga preso ed è un momento particolare magari per ore e ore Gianni Mura lo diceva nel libretto c'era non succede un bel niente diciamo così lui ha usato un'altra espressione e quindi la corsa ha anche poco valore dal punto di vista giornalistico se devo raccontare allora parlo dei campi di girasole parlo del vino eccetera però il momento della fuga è veramente un momento importante così come anche qui la televisione ha fatto la differenza e ne parlava invece il professor Donati che è stato ieri parlando di doping la prima volta con Tom Simpson e poi con Fabio Casastelli per due motivi diversi la morte che attraversa che coglie televisivamente ha un impatto molto forte invece la fuga è veramente un momento particolare allora Gianluca Trentini che è un nostro giornalista sportivo e non so se c'è negli acquisti ha scritto un libro in cui ha ricostruito un po' tutti i passaggi del giro dalle nostre parti ed è uscito quando quest'anno il giro è partito qui alla penultima tappa invece dal punto di vista fotografico il nostro grande Azoni ha raccolto quella mostra che è estremamente preziosa anche in questa dimensione storica allora Gianluca Trentini diceva che a proposito di un altro campione di cui adesso non diciamo tutte le vicende tragiche ovvero Pantani quando il giro è arrivato in una delle probabilmente più belle salite anche dal punto di vista scenografico oltre la Valdossola alla cascata del Toce lui era in alto al traguardo e la gente cioè la strada era pienissima di gente e a un certo punto ha sentito dalla valle e ha detto da brividi un urlo perché era scattato Pantani allora loro l'hanno visto non abbiamo visto in televisione eccetera questo discorso della fuga è uno degli aspetti del ciclismo un'altra cosa così faccio la domanda accanto a questa distinzione che non sapevo del più grande e del più forte lei introduce anche un altro il più il più elegante e allora sicuramente anche Till però fa in tempo già perché il libro è recente a citare il nostro Filippo Ganna ecco in questo quadro di piccola fenomenologia del ciclismo su strada dal punto di vista personale per quanto riusciamo a conoscere e poi gli inizi della sua carriera per fortuna questa completezza tra strada e pista eccetera che avranno avuto anche altri quando c'erano le sei giorni e ancora di più ecco in questo momento dove il presente si affaccia verso il futuro e vedremo anche domani Filippo Ganna come lo collocherebbe che tipo di fenomeno hai visto che è piccola fenomenologia belle domande tutte e due fuga ed eleganza diciamo così allora partiamo dalla fuga la fuga è se volete l'altra faccia di quella dimensione individuale collettivo di cui parlavo prima se normalmente il collettivo aiuta l'individuo il lavoro di squadra badate il sopravvento della televisione dell'inquadramento spasmodico della corsa consente di capire le strategie di una corsa ciclistica un non hai detto ai lavori potrebbe pensare che nella corsa ciclistica basta pedalare se c'hai i muscoli i bicipiti eccetera quello che hai vai e vinci nulla di tutto ciò c'è tutta una strategia che si coglie naturalmente stando lì incollati davanti al televisore a vedere come le squadre sono gestite come si muovono la fuga esca scatta uno perché l'altro dietro lo vado a rincorrere quando l'altro scatta scatta un altro compagno di quello che era scattato prima tutta una serie di stratagemmi che equivalgono se volete agli schemi del calcio del basket mutatis mutandis cioè c'è tutta una regia dietro che è molto accurata eh certo chiaramente sì sì ma non c'è dubbio che molte cose vengono dalle strategie militari non c'è dubbio la fuga quindi è l'altra faccia dell'individuale collettivo è l'individuo che scappa dal collettivo dal gruppo se voi guardate le immagini dall'alto quando il gruppo insegue spasmodicamente il fuggitivo sembra quasi di vedere le scene di una caccia alla volpe in Inghilterra i cani affamati che inseguono la povera volpe e spesso molte volte è capitato di vedere il fuggitivo che a un chilometro dall'arrivo viene braccato e colto ed è giustamente quello che diceva Mura l'unico caso in cui chi fugge non è un vigliacco perché? perché è una grande sfida perché da solo sei meno forte di quanto può essere forte un gruppo perché da solo devi tirare contro il vento solo tu di là invece si alternano in cima al gruppo e quindi chiaramente condividono la fatica e vanno più forte di te questo significa sostanzialmente che è una sfida e se volete è una metafora dell'individuo che si smarca dal coro se volete è una metafora della vita quello che vuole eccellere che vuole smarcarsi in qualche modo dalla dimensione di massa interessantissimo anche dal punto di vista sociale questo l'eleganza allora è chiaro che venendo a Verbagna io non posso che parlare bene di Filippo Ganma ma lo farei anche a Locri o a Canicatti cioè è un campione talmente cristallino che credo nessuno possa come dire contestarlo quello che è riuscito a fare domenica scorsa nella cronometro mondiale è qualche cosa di epico veramente uso quel termine di prima perché ha battuto quello che io considero in questo momento in assoluto il campione più eclettico e bello da vedersi che è il belga Wout Van Aert capace di vincere in volata capace di vincere sul Mont Ventoux in Francia capace di vincere classiche veramente un corridore straordinario senza nulla togliere naturalmente allo straordinario sloveno Tadej Pogacar che nelle corse a tappe ha qualcosa di più di tutti gli altri Ganna è riuscito a calcolare tutto quanto su un circuito tutt'altro che facile sul percorso tutt'altro che facile tant'è vero che parte in svantaggio rispetto a Van Aert e riesce praticamente a prenderlo negli ultimi chilometri con una forza una potenza invidiabile è quella che gli ha consentito poi di conquistare l'oro nella cronometra squadra dell'Olimpiadi così come aveva vinto ori mondiali su pista così come ha dimostrato di essere un validissimo supporter dei suoi capitani nella Ineos Grenadier che è una delle squadre più potenti la britannica l'ex Sky sarebbe che oggi si chiami in un altro modo e quindi di supportarli in quel gioco di squadra in cui badate bene questo è un altro come dire topus del ciclismo il Gregario il Gregario una volta era un muratore Gianni Brera in un mitico libro che si chiama L'Avocate in Bicicletta dedicato a Everardo Pavesi uno dei primi grandi campioni dell'inizio del secolo scorso che era uno sgrammaticato analfabeta lo dice Pivato nella prefazione del mio libro lo chiamavano L'Avocate perché era uno che poi intraprendeva discorsi si faceva portavoce del gruppo ma non aveva fatto neanche forse la seconda elementare e in quel libro Brera racconta di tutte le gesta di questo ciclismo d'antano molto interessante ebbene Ganna tornando a lui è sicuramente un campione cristallino sicuramente allenato benissimo dotato di un'eleganza sulla bicicletta direi degna dei più grandi Cronomen ho citato anche Till perché anche Till rappresenta secondo me proprio un modello di eleganza si diceva che sulla schiena di anche Till nelle corse a cronometro sarebbe stato possibile collocare un calice di champagne perché poi anche Till era un vivere e quel calice non si sarebbe mosso da quanto stava dritto fermo nel suo progredire io penso che Ganna possa ancora fare meglio di quello che fa perché è ancora molto giovane credo abbia 25 anni insomma quindi ha ancora davanti una carriera piuttosto ampia e credo che possa dare il meglio di sé anche in alcune classiche penso soprattutto alla Parigi-Roubaix per intenderci cioè gare dove la fatica dove la resistenza alla fatica alla sofferenza è fondamentale ecco e anche la struttura fisica che gli potrebbe consentire di accelere su questi percorsi ho qualche dubbio ma questo ovviamente vorrei sbagliarmi ma in qualche modo la sua struttura fisica ho qualche dubbio che possa poi competere invece sui grandi giri a tappe soprattutto quelli di tre settimane perché lì naturalmente serve una leggerezza fisica che lui ovviamente non ha perché poi riesce questa a dargli forza nelle altri tipi di competizione ma siamo di fronte veramente ad un fenomeno perché non c'è dubbio e lo dico senza alcuna piaggeria logistica diciamo così perché effettivamente le cronache parlano da sole parlano da sole e quindi che Dio ce lo conservi a lungo ne abbiamo bisogno anche perché in questo momento il ciclismo italico non è che goda di particolare fortuna le stesse cose le ha dette per più conto mi aspetto qualche classica che qualcuno l'ha vinta anche da dove le direttanti sicuramente non il tour e non il giro a meno che glielo costruiscono attorno come forse hanno fatto per qualche anno per indurare indurare i francesi che ancora si incazzano eccetera e no l'ultima domanda che faccio io poi lasciamo anche al pubblico lei ha citato un'altra figura di questo mondo composito che è un po' la rappresentazione anche di tante situazioni della vita no il gregario e qui vi ho dimenticato di dirlo prima ma due incontri importanti uno a scuola la scuola superiore è un altro qua con Marco Scarponi che ha presentato la fondazione intitolata Michele Scarponi ma questo per chiedere anche un'ultima cosa e ricondurre anche alla sua esperienza e passione di non solo tifoso in poltrona o raramente a quanto ho capito sui bordi della strada fare il tifo ma che ha piacere di pedalare lei faceva notare fa notare una cosa reale talmente evidente che magari non ci pensiamo che sia lo strumento la bicicletta che il luogo in cui avviene perché questo è il ciclismo su strada cioè la strada sono luoghi comuni la bicicletta non è nata come strumento per gareggiare adesso le biciclette fanno anche loro la differenza in termini di tecnologia è bene nel senso ma l'aspetto della strada quindi l'aspetto anche della della sicurezza perché il ciclismo va di pari passo con l'abitudine di un popolo di andare in bicicletta io vedo nel mio piccolo angolino di di mondo e facendo l'insegnante a un liceo da parecchi anni che sono pochissimi gli studenti che vengono in bicicletta un po' per il territorio che abbiamo e perché non c'è sicurezza sostanzialmente mentre in altri paesi più piatti eccetera la bicicletta è davvero lo strumento consueto per andare in giro quindi l'Olanda il Belgio noi soffriamo di questa faccenda qua secondo me i ragazzi arrivano alla bicicletta ma come uno strumento di sport quando va bene magari di escursione in montagna la mountain bike eccetera cioè di gioco invece il bello della bicicletta anche nei giochi infantili giocare in cortile dire sono Gimondi e Merckx noi facevamo questo io ho qualche anno in meno ma sono anch'io degli anni 50 quindi questa familiarità il luogo cioè la strada e lo strumento della bicicletta e attorno a questo la sicurezza quanto nella passione ciclistica può incidere il praticare quello sport o addirittura non praticarlo ma utilizzare lo strumento che lì diventa strumento indispensabile per la gara come uno strumento abituale io temo che non ci sia questo o non ci sia ancora abbiamo parlato anche sempre qui in un convegno di piste ciclabili eccetera quindi sono tematiche che allargano la prospettiva e finisco questa domanda un po' contorta citando anche il libro scritto sempre da Stefano Pivato che spiace davvero non sia venuto che è storia sociale della bicicletta che è molto interessante perché parla di aspetti sociali non degli aspetti sportivi poi le due cose parlano l'uno all'altro ecco questa dimensione diciamo anche della quotidianità e anche in termini personali quanto la passione della bicicletta si unisce alla bella passeggiata da fare magari non domenica questa perché c'è la gara se 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 dovessi concettualizzare questa domanda riguarda la sostenibilità che è un tema di grande moda oggi è solo una non è solo un tema modaiolo è un tema di grande attualità io abito ho la fortuna di abitare in una città di mare Pesaro che è una città pianeggiante e quindi noi fin da bambini ci muoviamo in bicicletta io la macchina la uso soltanto abito in centro solo per uscire da Pesaro quando vado ad Urbino chiaramente sono 35 chilometri e poi Urbino a 500 metri uso l'automobile o altri mezzi ma la bicicletta in città per noi è consueta abbiamo un'amministrazione comunale che negli anni ha costruito una pista ciclabile di 12 chilometri una volta che capitaste da quelle parti che corre proprio in riva al mare sulla spiaggia ed è bellissima perché collega Pesaro e Fano e tu sei praticamente sulla spiaggia è chiaro senza queste dimensioni di protezione la bicicletta è uno strumento pericolosissimo io da automobilista molte volte tendo ad imprecare contro i ciclisti sulla strada che spesso si muovono accoppiati mentre sapete che il codice prevede che tu devi stare dietro l'altro perché è pericolosissimo e quando li devi superare devi stare attentissimo perché non sai se sanno se possono scartare vi segnalo fra l'altro un ulteriore elemento quello delle bici assistite che si sta diffondendo sempre di più è difficilissimo calcolare la velocità e quello che può fare un ciclista con una bici assistita perché tu non riesci a calcolare non è il ciclista che va solo con le proprie gambe c'è un motorino elettrico che quindi se per caso lo superi e magari devi girare attento perché quello sta andando più forte di quello che tu credi per dire cioè la conciliazione la compatibilità della bicicletta con tutto il resto io l'ho chiamato luogo comune il luogo del ciclismo su strada ovviamente nel senso positivo non deteriore del termine chiaramente era un po' un gioco di parole perché è un luogo di tutti ma se è di tutti tutti dobbiamo contemperare le nostre esigenze l'automobilista da un lato il pedone dall'altro il ciclista dall'altro molto spesso lo stesso ciclista non è rispettoso delle regole che devono tutelare anche gli altri c'è questa tendenza e bene ha fatto a citare il caso dei paesi del nord dove davvero lì lo sport è di popolo perché la struttura urbanistica noi con mia moglie siamo stati proprio prima della pandemia in Olanda a fare un lungo giro e lì ti accorgi che la bicicletta è veramente lo strumento del popolo e tutti quanti si muovono protetti sulle piste ciclabili che sono infinite certo il territorio aiuta non c'è dubbio però c'è anche una cultura da questo punto di vista una cultura urbanistica una cultura politica se vogliamo non c'è dubbio che non c'è dubbio che dobbiamo sempre di più valorizzare il tema della della mobilità che in qualche modo si rapporta con il corpo io di questo sono straconvinto ma perché sono nato si può dire sulle due ruote non da agonista ma da semplice cittadino di una città dove si può usare la bicicletta sono convinto che non solo faccia bene ma che liberi veramente la mente per molti versi il libro che oggi avremmo dovuto presentare con Pivato la felicità in bicicletta narra proprio di questo di come c'è tutta una cultura quello è un libro colto a differenza del mio colto nel senso che lì Pivato attinge a tutta una serie di citazioni bibliografiche di grandi autori dove si parla proprio di come la bicicletta da felicità fin dall'ottocento eccetera però anche qui come sempre un granosalis occorre naturalmente capire come contestualizzare questo discorso in una realtà che è nata ed è stata costruita e si è evoluta dissennatamente senza considerare tutti questi elementi in questo l'Italia è un paese in ritardo forse perché l'enorme distruzione della seconda guerra mondiale non dimentichiamoci ha ricostruito il paese in fretta e furia negli anni cinquanta ma lo ha ricostruito ovviamente senza nessuna progettualità sul lungo periodo per cui abbiamo avuto la riedificazione di un paese che era stato raso al suolo dai bombardamenti dalle invasioni dalla guerra e che però non pensava minimamente a quello che un domani sarebbe e se volete questo è un difetto che abbiamo tuttora quello della mancanza di progetto sul medio-lungo periodo se volete anche dal punto di vista politico molto spesso noi assistiamo a interventi che pensano soltanto in modo mio a quello che accade da qui a un anno da qui a due anni ma poi la società ti sopravvive sopravvive alla tua carica al tuo mandato parlamentare al tuo mandato di governo eccetera e chi ci pensa? ecco purtroppo noi non pensiamo mai a chi ci succede il dramma che stiamo vivendo adesso è che ci rendiamo conto che i nostri figli in realtà stanno cominciando a pagare la dissenatezza delle scelte fatte un po' di anni fa allora uso questo come metafora anche della ricicletta va recuperata quella dimensione di sostenibilità ma dobbiamo stare attenti a mettere insieme una serie di interventi a tutto tondo che consentono a questo di avere un senso perché altrimenti rischia di assomigliare un po' e qui torno se mi permettete alla materia che insegno a quella espressione piena di retorica che si usa spesso quando si parla della cultura della sicurezza sul lavoro io per mestiere faccio il giurista del lavoro e partecipo a tanti convegni seminari ultimamente webinar con questa storia della pandemia e quasi sempre chi conclude dice ci vuole la cultura della sicurezza ecco lì io potrei tra virgolette mettere mano alla pistola come si dice in gergo cioè basta con questa cosa vuol dire cultura della sicurezza se poi a questa non segue una serie di interventi rischia di essere un'espressione vuota e retorica rischia anche questo tema della sostenibilità di essere vuota e retorica se non lo sappiamo contestualizzare in una dimensione molto più articolata e molto più sistemica bene allora il libro è piccolo e si presenta come piccolo ma è come si è capito bello denso perché ci sono tanti altri elementi se qualcuno ha una domanda la giù quel signore io vorrei fare un passo indietro parlare del popolo che accompagna i ciclisti nelle loro imprese io sono uno di quelli sono una persona men che normale non vado in bicicletta sportiva ho una bicicletta normale che mi permette di muovermi a Verbagna quando ne ho la necessità vado alle corse vado alle corse con frequenza la Milano Sanremo è una gara che salvo gli ultimi due anni io seguo assiduamente sul poggio vado ai Tour de France la mia vi racconto la mia esperienza io vado a vedere le le corse ciclistiche perché mi emoziono perché do una una pacca sulle spalle alla fatica che fanno questi ciclisti li onoro li onoro non con la mia presenza ma con la con il mio incitamento ed è una cosa completamente diversa di guardare le corse alla televisione quando torno a casa vado a sentire le cronache di Luca che fa su Eurosport però è un'altra cosa cioè magari hai anche la sfortuna di vederti passare in dieci secondi tutto quanto però è un clima che respiri le persone che 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 stanno vicini a te lo lo condividono questo 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 fatos ed è ed è una cosa veramente il Tour de France io quest'anno ero a vedere accompagnando mio figlio su al Mont Ventoux ma ragazzi il Tour de France il giro d'Italia se lo sogna purtroppo noi non abbiamo appunto parlare di cultura noi non abbiamo quella cultura popolare che c'è in Francia in Francia il Tour de France è la festa nazionale di quel paese tu si ferma tutto c'è un un'adrenalina che 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 è fortissima ecco questo è il popolo del del ciclismo non è anch'io ho i miei campioni di di riferimento a me piace Piterone Sagan perché riesce a combinare la sua tecnica la sua capacità con un'umanità che altri non hanno l'unico che non amo è Bardet Bardet non lo amo perché ha fatto una cosa che nel ciclismo attuale politicamente corretto esiste adesso una volta non c'era adesso c'è quando Nibali è stato fermato da quel ciclismo da quel da quel tifoso Bardet ha cercato di andare in fuga quando tutti gli altri si sono fermati a me questa cosa qua mi ha fatto incazzare glielo ho detto pure a una giornalista dell'equip gli ho detto non va non fa parte dello spirito nostro di noi spettatori e soprattutto di loro ciclisti grazie scusa se posso lei ha toccato tanti di quegli spunti che peraltro nel libro ci sono ma non glielo dico per venderlo attenzione lo dico perché io lo dico a un certo punto nel libro che il tifoso che va a vedere come lei il ciclismo dal vivo cosa vede vede sfrecciare sostanzialmente spesso i corridori in salita magari li vede andare più lenti ma se no spesso è una frazione di secondo quella in cui tu cogli non è come il calcio che tu vedi 90 minuti della partita se stai allo stadio allora uno dice perché ci devo andare sappia che io non ho la fortuna come voi di avere attorno a casa molte corse importanti voi del nord ne avete di più l'anno scorso quando il tour de france si ricorda fu fatto nonostante la pandemia no è un po' più tardi in agosto convinsi mio cognato a prendere la macchina ci fermammo a Torino e andammo a Orsier Merlet perché andammo a Orsier Merlet perché è una località abbastanza vicina all'Italia io venivo da Pesaro quindi il viaggio non era proprio corto e perché essendo io un grande tifoso di Merckx a Orsier Merlet Merckx ha vissuto la batosta più grossa della sua vita quando Cagna gli rifilò quasi nove minuti in un tour famoso dove poi Cagna cadde in discesa e Merckx vinse quel tour andammo a vedere la tappa che finiva Orsier Merlet sulle Alpi francesi e lì tu respiri a ragione lui respiri un'aura per usare una parola classica straordinaria perché poi gli abbiamo visti quella tappa alla Vince Roglic gli abbiamo visti passare in un battibaleno si può dire ma c'è tutto il contorno il contorno colorato del circo chiamiamolo così della carovana ciclistica il pubblico con il quale fraternizzi c'era lì un unico italiano eravamo in tre di italiani noi due che venivamo da Pesaro e un altro che veniva da Pinerolo che aveva messo anche una bandiera italiana sulle transenne gli ho detto ma per lei è facile Pinerolo è qua dietro noi abbiamo fatto un po' di chilometri in più tu fraternizzi con le persone che ci sono non c'è competizione non c'è rivalità e c'è questa dimensione veramente straordinaria da questo punto di vista e capisco bene quello che lui dice lì tu vedi poi magari sei lì e con l'iPad o il telefonino riesci poi a collegarti a vedere le immagini che non riesci a vedere dal vivo quindi è un modo diverso di seguire una competizione sportiva ma in realtà è quello di esserci dentro nella dimensione sportiva e questo è un aspetto assolutamente come dire unico anche rispetto agli altri sport l'originalità di cui si stava volevo riprendere un attimo mi ha parlato del grande il campione non mi ha parlato del campione il campione Gianni Gimondi ricordo ancora una trasmissione da Fazio direi come si chiama quella della domenica alla sera che tempo che fa ecco quando è intervenuto anche Max cioè è stato bello intanto il dibattito e l'amicizia che comunque anche nella competizione c'è ecco volevo sottolineare questo aspetto del campione che il campione è Gimondi il cannibale il fenomeno è appunto Max e il grande è stato punto compi aggiungerei un altro che è l'incompiuto secondo me che è Gianni Bugno Gianni Bugno avrebbe avuto tutte le caratteristiche per diventare il Max degli anni degli anni 90 e quindi è l'incompiuto e poi chiudo Bugno se posso aveva una classe cristallina assolutamente cristallina non a caso lui vince due campioni del mondo due campionati del mondo consecutivi senza che magari nessuno lo pronosticasse nei giri a tappe si scontrò con quel fenomeno che era in Durain che era purtroppo uno che per cui costruivano il Tour de France con le tappe a cronometro da 70 km per cui a 70 km a cronometro con uno come Miguelone in Durain c'era poco da fare e se fosse stato un Tour più equilibrato Bugno se la sarebbe giocata non dico Chiapucci che era la testa matta e faceva delle imprese notevoli però Bugno sicuramente era più completo è sempre stato un po' come dire fino a un certo punto e poi mancava qualche cosa pur avendo vinto corse importanti sì anche io sono dell'idea che avrebbe potuto fare di più e lo considero e forse però se volete anche nella comunicazione lo sentite come è un po' quando anche parla un po' quasi avaro non si dà del tutto sembra sempre che in qualche modo ci sia un freno a mano tirato mi sembra in quella persona ma è un giudizio del tutto superficiale riprende Bugno che si trova in fondo al gruppo perché è un uomo svagato e gli dice Gianni ma ti dimenticare che hai il portafoglio va avanti dunque Gianni hai dimenticato a casa il portafoglio che sei in fondo va avanti movat era una classica del nord credo che fosse una una rubè che Bugno vinse e così era Bugno bene allora si è concluso il programma mattutino del sabato il pomeriggio purtroppo non avrà l'incontro che in qualche modo completava o proseguiva questo con Stefano Pivato i libri sono sempre nelle nostre librerie oltre a questo adesso sarà anche oggetto di firme io mi prenoto subito e poi ci sono due persone sicuramente interessanti a conoscere Gino Cervi Albano Marcarini perché hanno scritto il giro dei giri selezionando le tappe secondo loro più i percorsi proprio più interessanti di tutte le più di cento edizioni del giro e ripercorrendole adesso con tutta una serie di note di difficoltà possibilità eccetera quindi un'attualizzazione della storia del giro in termini anche di cicloturismo Albano Marcarini è già stato da noi ha scritto tantissimi perché credo che abbia fatto decine di migliaia di chilometri o a piedi o più spesso in bicicletta e anche Gino Cervi è sulla stessa lunghezza d'ora la piccola particolarità è che bisogna dirglielo all'editore che è il turismo il touring club italiano se uno va sul sito touring club italiano e c'è Gino Cervi clicca su Gino Cervi e viene fuori attore nato nel 1902 interpretò Peppone eccetera e non c'è il turismo invece dopo c'è un altro aspetto che non riguarda la bicicletta ma il corpo decisamente sì perché c'è l'incontro sulla sulla danza e viene Elena Randi che insegna storie della teorie della danza invece no il titolo le teorie della danza del novecento quindi un aspetto anche sulla danza degli ultimi decenni da un punto di vista proprio di attenzione a questa forma espressiva dove il corpo è chiaramente al centro e subito dopo subito dopo alle 18 e 15 c'è l'incontro con Carlo Piano che insieme al padre Renzo Piano ha scritto il libro Atlantide che è un libro di viaggio dove padre e figlio vanno a vedere a distanza anche di decenni a volte le maggiori realizzazioni di Renzo Piano dal punto di vista dell'architettura ma Carlo Piano che è giornalista e scrittore ha scritto successivamente un libro in forma di romanzo il cantiere di Berto in cui racconta il cantiere della costruzione del ponte che chiamavamo Morandi adesso si chiama il ponte San Giorgio di Genova poi stasera c'è un'altra cosa domani ancora ancora quindi abbiamo ancora pieno del festival sicuramente come dicevo prima e chiudo con questo il libro e quindi il piacere di sentire anche l'autore sviluppare alcune delle tematiche presenti nel libro è perfettamente centrato sull'argomento si toccano tanti aspetti li abbiamo evocati almeno alcuni e quindi grazie della presenza e buon pomeriggio